È stato emozionante essere premiato da voi e dalla regione come uno degli atleti Liguri dell'anno e diciamo che avete portato bene ormai, è quasi un rituale che prima di una competizione importante vengo premiato da voi e diciamo che riuscite sempre a dare anche una spinta maggiore agli atleti per continuare a far bene. L'obiettivo di un atleta non è mai fermarsi a un successo ma quello di continuare sempre su una strada migliore. Ecco diciamo che la formula del successo a noi non ci è stata ancora rivelata, la tiene segreta al maestro e poi un giorno magari ci passerà il testimone quando toccherà a noi insegnare.